La faccia proprio Guarda come si muro lì Mamma mia Guarda, tu non ti accorgi Io ti voglio dire che stai calmo così Io ti voglio bene e tutto questo Non ti rendi conto Quando sei antipatico, mamma mia Quando comincia a fare quello nervoso Mamma mia Tutte queste cose a cazzo Si ripercuota proprio nel lavoro, nella scuola Io lo so, sto fuori Vedi tutti i bambini che escono Che tu cacci fuori Stai sempre là fuori Vieni là e dici ma maestro che hai i problemi suoi a casa Dici grazie e poi sono figli con noi Ma perché? Lo so, è un periodo Non è per un parte la mia sorella Poi Ma io lo so, lo so Mi devo, ho problemi personali Ma io ti capisco su questo Non sto dicendo qualcosa Scusa, levami una curiosità Che te l'ha detto quel fatto Giacchetto Pillulare che stai nervoso No, no Non mi ricordo Ti ha detto quell'impecino di Giacchetto No, non me l'ha detto i Giacchetto Comunque Giacchetto è bocciato Ma no, non me l'ha detto Ma non ti preoccupare Non è che lo boccio per questa cosa qua Perché è bocciato dall'inizio dell'acqua Quando è entrato in classe Ho detto questo lo boccio Perché è istinto So già chi passa Vabbè, fossi stati Giacchetti Comunque, sti mamici Dici guarda, l'ha detto i Giacchetti E allora dici E va bene Vabbè, no? Vabbè